I carabinieri della compagnia di Barletta hanno arrestato per rapina aggravata a un giovane barlettano di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della locale procura della Repubblica. La vicenda scaturisce dalla denuncia presentata ai carabinieri da una donna 73enne di Barletta, la quale il 13 dicembre scorso, mentre passeggiava per la città, era stata aggredita alle spalle da un uomo alto con vestiti scuri che gli aveva sferrato uno schiaffo all'altezza dell'orecchio destro, strappandole l'orecchino d'oro che portava al lobo per poi fuggire. Nonostante le urla della donna, dopo l'aggressione, l'uomo era riuscito a dileguarsi. L'anziana, dopo aver superato lo spavento per quanto le era accaduto, si era recata presso il comando dei carabinieri di Barletta per sporgere denuncia. Le immediate indagini condotte dai militari attraverso un'accurata visione delle immagini dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nel luogo del reato permettevano di notare pochi attimi prima del fatto un ragazzo dalle fattezze fisiche e dai vestiti pari a quelli descritti dalla denunciante che seguiva l'anziana signora. La conoscenza dei pregiudicati del luogo permetteva ai carabinieri di identificare il sospettato e di eseguire nei suoi confronti una perquisizione domiciliare nel corso della quale venivano rinvenuti gli indumenti indossati dello stesso all'epoca dei fatti corrispondenti a quelli descritti dalla vittima e ripresi dalle telecamere mentre la refurtiva non veniva trovata. Il GIP di Trani, a seguito della richiesta del pubblico ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri, emetteva nei confronti del giovane un provvedimento di custodia cautelare in carcere per rapina gravata immediatamente eseguito dai militari operanti. Per il giovane già gravato da precedenti specifici si sono così aperte le porte della casa circondariale di Trani. Grazie a tutti.